Morire di malnutrizione in un paese ricco come l'Italia si può, soprattutto se si è pazienti oncologici. Nel nostro paese una percentuale significativa di decessi tra i malati oncologici è causata proprio dalla malnutrizione. Di questo fenomeno e dell'importanza della nutrizione medica si è parlato nel convegno organizzato dalla Unione Italiana Food. Numeri impressionanti quelli presentati al convegno, basti pensare che se si intervenisse ovunque sulla malnutrizione ospedaliera si potrebbero salvare migliaia di vite all'anno e si abbatterebbero costi clinici per 2 miliardi di euro ogni anno. Il paziente oncologico ad esempio si ammala di più perché la malattia oncologica determina una malnutrizione. E questa malnutrizione si esprime con una perdita di peso, con una perdita di muscolo che poi si correlano in maniera importante con un peggioramento della prognosi clinica sia in termini di sopravvivenza, sia in termini di rischio di maggiore ospedalizzazione, sia in rischio di aumentata mortalità e comunque di riduzione della qualità di vita e di riduzione di tolleranza ai trattamenti specifici contro la malattia. Per garantire a tutti i pazienti il diritto alla nutrizione medica è stato presentato il manifesto Nutrizione Medica più Forza alla Cura. I contenuti sono di fatto quelli di mettere in sequenza organica tanti passi in avanti che sono già stati di fatto compiuti. Il primo è come garantire uno screening nutrizionale all'accesso in ospedale, quindi il paziente oncologico che deve essere preso in carica da un nutrizionista non solo da un oncologo. Come quindi garantiamo un percorso nutrizionale? Pensiamo alla dimissione dell'ospedale dopo un intervento chirurgico, quando il paziente torna a casa chi seguirà questo paziente da un punto di vista nutrizionale? Quando il paziente è in percorso radiochimioterapico chi lo seguirà da un punto di vista nutrizionale? E se alcune regioni si sono attrezzate per garantire standard elevati di nutrizione medica ai pazienti, la disparità di trattamento nel nostro paese varia in base alla regione e perfino alla zona di residenza. Purtroppo il caso della malnutrizione è l'ulteriore esempio a fronte di tanti altri che abbiamo denunciato anche in queste settimane, non più tardi di ieri, la presentazione del nostro rapporto sul servizio sanitario nazionale, di come il paese sia diviso in tanti pezzi, per cui a seconda del codice di viramento postale, di doverabili, hai servizi completamente diversi. E questo non è accettabile, non solo per i motivi di carattere terapeutico di cui stiamo parlando, ma anche perché i cittadini devono fidarsi delle istituzioni. E l'elemento di fiducia è il primo pilastro su cui si costruisce un paese coeso. Dare più forza alla cura significa quindi permettere a tutti di accedere ad un approccio multidisciplinare della malattia, capace di dare al paziente le massime chance di guarigione.